Margaret Constance Maisie Williams è un'attrice britannica, nota soprattutto per il ruolo di Arya Stark nella serie HBO Il trono di spiade Cresciuta a Clutton, Somerset, ha frequentato la Clutton Primary School e la Norton Hill School di Midsomer Norton per poi trasferirsi al Batdance College di Randstack per studiare arti dello spettacolo Dal 2011 al 2019 ha interpretato il ruolo di Arya Stark, la figlia femmina più giovane degli Stark di Grande Inverno nella serie HBO Il trono di spade Fin dalla prima stagione, nonostante sia stato il suo primo ruolo in assoluto, la Williams ha ricevuto molte critiche positive per la sua performance nella serie TV Numerosi riconoscimenti anche nella seconda stagione, e l'emittente HBO ha proposto la sua candidatura come miglior attrice non protagonista ai premi Emmy 2012 Ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista ai Portal Award del 2012 A soli 15 anni risulta essere la più giovane attrice ad aver vinto un premio simile Nel marzo 2013 è stata nominata agli Young Artist Award come miglior attrice non protagonista e Nel novembre 2013, ha vinto il BBC Radio Untina Award come miglior attrice inglese? Sempre per il ruolo di Arya, è stata candidata ai premi Emmy 2016 nella categoria miglior attrice non protagonista in una serie drammatica Nel 2012 Williams ha interpretato il ruolo di Lauren Kalig nella serie The Secret of Creativity Hall della BBC È apparsa anche in altri film come The Olympic Ticket Scalper, It Stroke e cortometraggi come Corbide e Up on the Roof Tra le pellicole realizzate durante questo periodo va segnalata la performance in Gold, elogiata da tutta la critica Degno di menzione anche il ruolo di protagonista unica nel film TV Cyberbully Nel 2014 è protagonista del film The Falling, per cui ha vinto un London Film Critics Circle Award come miglior giovane attrice dell'anno Nel 2015 entra a far parte del cast della serie televisiva Doctor Who, recitando in quattro episodi della nona stagione È stato annunciato che sarà la protagonista del film The Forest of Hands and It, adattamento dell'omonimo romanzo di Carrie Ryan, e dell'indie movie alla fine C6 Tour, con Asa Butterfield e Nina Grobrev Nelle versioni in italiano dei suoi lavori, Maisie Williams è stata doppiata da Grazie per l'attenzione Iscriviti al Calane